1, 2, 3, action! Siamo nella scuola materna di Colasher in Tanninado. Qui si dice nursery. Oggi ci sono pochi bambini perché è un giorno festivo, quindi molti di loro sono rimasti a casa. Questa scuola non era più un sponsor e per loro, per tutti questi bambini, era un problema molto grosso. Invece, adesso, grazie a ITCAMIN, possiamo continuare a proseguire questo bellissimo progetto. Quindi tutti questi bambini meravigliosi vi dicono grazie. Adesso 1, 2, 3, thank you! 1, 2, 3, thank you! 1, 2, 3, thank you! Pronti? Verso la camera? 1, 2, 3, thank you! 1, 2, 3, thank you! Yeah, 1, 2, 3, thank you! 1, 2, 3, thank you! One more? Like this? Thank you! Thank you! 1, 2, 3, thank you! 1, 2, 3, thank you! 1, 3, thank you! Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì.